buongiorno a tutti io sono ci per la privacy e anch'io sono un amante patologica nella mia vita ho avuto solo uomini impegnati ma adesso voglio smettere pensate che erano sei giorni che resistevo che non rispondevo ai messaggi ma poi lui ha rovinato tutto mi ha scritto che lascia la moglie e io gli ho risposto non so perché l'ho fatto è stato più forte di me ragazzi ho un cuore anch'io non sono mica una donna di ghiaccio però io ho deciso io voglio smettere una volta per tutte basta hotel in periferia basta cene clandestine basta nascondersi io voglio uscire alla luce del sole ok di d'ora in poi cercherò solo uomini liberi potete aiutarmi ammetto che l'ho sempre fatto per egoismo ma volete mettere l'impegno di lavare e stirare per un uomo cero in ciabatte che gira per casa no io ho sempre voluto solo il meglio della storia no ho alla moglie tutte le incompense adesso è il momento di crescere basta sì però ragazzi detto tra di noi vogliamo mettere l'adrenalina della storia clandestina ma tu sei occupato ti stai separando